Magari fossi sempre così? Perché? Vivrei con te. Che figlia di puttana che sei, che schifo. Vivresti con me. Sì, ma se ti vergogni pure quando vengo a prenderti in ufficio, perché sono un poveretto, perché non sono un signore. Ma smetti, Laiona. E non fare la commedia. Con me non devi fingere. Non ingannarmi mai se non mi incazzo. Senti, a proposito. E come si chiama la figlia del padronaccio tuo? Marilu, perché? Quanti anni ha? Ma non lo so, una ventina. Hai capito, vent'anni è tutta quella grana. Però se riesco a organizzare un bel sequestro da mezzo miliardo, mi metto a posto per tutta la vita. Giulio, credi a me, ti conviene giocare al totocalcio. Ma sì, devo giocare al totocalcio. Ma certo, magari anche a canzonissima, all'enalotto. Ione. Guarda. Tu mi devi prestare solo la macchina. Io due amici li trovo. Anzi, li ho già trovati. E poi? Rapisco la ragazza. Poi la nascondo in qualche posto. E come il datore, vedrai che paga. Ma dai, Giulio, è una scemata. E su. Prestami la macchina. E poi, guarda, ti giuro che ti riempio di... Beh, non posso dire d'amore, ma ti riempio di uccello per tutta la vita. E poi, guarda, ti giuro che ti riempio di uccello per tutta la vita, ma ti riempio di uccello per tutta la vita, ma ti riempio di uccello per tutta la vita, ma ti riempio di uccello per tutta la vita, ma ti riempio di uccello per tutta la vita, ma ti riempio di uccello per tutta la vita. Grazie.